Adesso arriva Fiorella Madè, vai Fiorella! Abbiamo beccato il primo stacchetto, fantastico! Fiorella ci parla di come nasce un brand, in particolare il brand è anche uno dei nostri main sponsor di questa edizione di Roma, che è Back Me Do. A te! Grazie! Ciao a tutti, piacere essere qui anche quest'anno in questa edizione di Roma. Scusate la voce ma mi è capitato fra capo e collo un raffreddore incredibile, quindi scusate se ogni tanto rantolerò e berrò dell'acqua. Allora io sono qui per parlarvi di Back Me Do, che è il brand per cui lavoro. Nasco da freelance e ho iniziato questa collaborazione perché sentivo il bisogno di riconoscermi in un brand, in qualcosa. E sono qui per parlarvene perché è un marchio appena nato, abbiamo lanciato la nostra piattaforma a maggio e quindi dobbiamo farci conoscere. Anche per questo che stiamo sostenendo il freelance camp con il deposito bagagli che avete visto qua fuori. Mi raccomando domani se avete delle valigie non scarrozzatevele per Roma o qui nella sala ma lasciatecela al deposito bagagli. Che cos'è Back Me Do? Iniziamo da qui. Siamo una start up e attraverso una piattaforma web offriamo la possibilità di prenotare il deposito bagagli nelle 13 grandi stazioni, quindi è il deposito ufficiale in stazione e nei centri delle principali città d'Italia. Siamo infatti presenti in 234 attività commerciali che sono pizzerie, bar, ristoranti che mettono a disposizione un'area per il deposito bagagli. Quindi queste attività si affiliano a Back Me Do, ricevono le prenotazioni dal sito, i vostri bagagli sono coperti da assicurazione, prenotate per tutto il giorno, andate a ritirare il bagaglio e la cosa è fatta. Back Me Do è l'unico portale che vi permette di prenotare i depositi nelle stazioni. Da cosa è nato Back Me Do? È nato da un'idea. Il fondatore di Back Me Do, questa start up, in realtà da sei anni gestisce un'azienda che si occupa della gestione dei depositi nelle grandi stazioni. Ogni anno facciamo una cena di Natale e nella cena dell'anno scorso il direttore generale ha partorito questa idea di Back Me Do, ovvero una piattaforma con cui prenotare online il deposito nelle stazioni, ma anche altri punti dove lasciare il bagaglio e vivere la città, più serenamente che sia per turismo o per viaggi di lavoro. Adesso vi racconto come siamo partiti da questa idea e come siamo arrivati a trasformarla in un business. Questo vi può essere interessante in realtà anche per i vostri progetti da freelance. Abbiamo seguito questi quattro step, anche aiutati da un'agenzia di comunicazione. Il primo step è stata un'analisi interna, quindi delle nostre necessità di dove volevamo andare e del mercato. Quindi abbiamo definito il modello di business, analizzato il settore, i potenziali clienti e i competitor. La seconda fase è stata la progettazione dei servizi e della piattaforma. Quindi ci siamo occupati di che cosa avremmo venduto e come. Abbiamo poi lavorato all'identità del brand, quindi abbiamo dato un nome a quest'idea, studiato il posizionamento sul mercato, l'identità visiva è quella verbale. E come quarta cosa ci siamo occupati della comunicazione e del marketing, quindi come e su quali canali comunicare il brand con lo scopo di vendere servizi. Adesso entriamo in ognuno di questi punti. Siamo andati ad analizzare quello che è il mercato in cui ci muoviamo, più ampio del turismo, dei viaggi nello specifico. Quindi abbiamo definito nella nostra analisi interna il modello di business e la nostra visione. Abbiamo poi, siamo poi andati a vedere dei dati che ci hanno detto quali sono le città più visitate in Italia. Per esempio in questo grafico vediamo che Roma è in testa, seguita da Milano, Venezia e Firenze. Le motivazioni che spingono le persone a viaggiare, quali sono i portali più visitati e quanto pesano nelle decisioni di un viaggio. E poi il tema del bagaglio, come le persone ne parlano. Perché in generale quello che abbiamo visto è che ci sono due grossi filoni, le persone che pianificano tutto anche dove lasceranno il bagaglio e quelle che invece si ritrovano all'ultimo non sapendo dove mollarlo, magari volendo andare a un museo e ritrovandosi in centro città senza sapere dove lasciare questo bagaglio. La nostra visione è questa, quindi occuparci dei bagagli delle persone per lasciarle libere di raggiungere i propri obiettivi che possono essere appunto di turismo leisure oppure business. Siamo poi andati a vedere appunto i dati del mondo del viaggio. Il settore dei viaggi e del turismo per esempio è uno dei mercati in maggiore sviluppo a livello globale negli ultimi vent'anni. Quello che abbiamo visto, non entrerò nel dettaglio di questi numeri, è però per esempio che l'Italia è il quinto paese più visitato al mondo ed è il primo per aumento di numeri di viaggiatori rispetto agli anni scorsi. Quindi le potenzialità ci sono. Siamo poi andati ad analizzare quali sono i servizi legati al bagaglio. Quali sono? Ci sono dei punti di deposito, spesso anche locker, quindi di quelli dove voi andate e lasciate la valigia, la chiudete con un codice o una chiave, in aeroporti, in negozi dedicati, che sono gestiti da aeroporti, stazioni, piattaforme digitali e hotel. Oppure ci sono servizi di spostamento del bagaglio, di tendenzialmente spedizioni di bagaglio e sono gestiti da corrieri, servizi di spedizione e tour operato. Abbiamo poi fatto un'analisi rispetto a tutti quelli che sono i competitor, quindi i servizi proposti, qual è la loro value proposition, quindi in che cosa loro sicuri si sentono i migliori nel mercato, quali funzionalità e quali esperienze utenti hanno delle loro piattaforme e qual è il loro revenue model, quindi come fanno soldi. Questa è un'analisi che vi consiglio di fare anche fra freelance, se dovete andare a sondare qual è il mercato, capire cosa fanno i vostri competitor, questa è una tabella molto comoda, quindi da una parte i vostri servizi, dall'altra cosa fate voi, cosa fanno i competitor e andate letteralmente a fleggare che cosa fate. Quello che noi abbiamo visto immediatamente, il puntatore, ok vai non va, è che siamo gli unici ad avere il deposito in stazione, quindi questo è il nostro vantaggio competitivo, Bagme 2 è l'unica piattaforma con cui per notare il servizio di deposito in stazione. Dopodiché tutti gli altri competitor hanno i depositi nel primo perimetro della stazione, inizialmente non ce l'avevamo, adesso abbiamo anche nel primo perimetro della stazione, e poi tutta una serie di servizi, adesso li vedete in grigio magari alcuni, tipo servizio di spostamento e servizio al binario, perché per il momento non sono pernotabili dalla piattaforma, ma lo saranno, cosa vuol dire che quando noi attiveremo anche il servizio di spostamento, il servizio al binario, avremo un altro vantaggio competitivo rispetto agli altri competitor, perché saremo gli unici ad offrire questi servizi. Questo è molto importante a saperlo prima, e non è importante attivare tutto subito, anche perché ci servono i mezzi, ci servono le persone, però noi lo sappiamo, questo è il nostro vantaggio competitivo, e su questo costruiremo le strategie successive. Abbiamo poi identificato i target, quindi a chi vogliamo rivolgerci, e le abbiamo personificate, facendo questo esercizio, diciamo, delle personas. Quindi abbiamo identificato che i nostri persone sono il nomade organizzato, ovvero le persone che viaggiano magari zaino in spalla e pianificano i loro viaggi con il web, le guide turistiche, la famiglia pratica, quindi le famiglie che anche loro appunto usano il web per prenotare i vari servizi, dal spostamento agli hotel, eccetera, i tech fidelizzati, che sono delle persone che usano il web per qualsiasi cosa, hanno app di tutto di Airbnb, di booking, qualsiasi cosa, e i primi o meticolosi sono le persone che viaggiano molto spesso per lavoro, quindi più spesso business travel, e sono meticolosi perché loro hanno tutto programmato, arrivano in stazione, e poi hanno un meeting, ne hanno un altro, si devono spostare, ok? Quindi hanno diverse esigenze. Per ognuno di questi target abbiamo creato un customer journey, quindi un percorso che queste persone possono fare per trovare i nostri servizi e usarli, ma anche che cosa fanno, quali emozioni provano e quali sono le criticità. Quindi questa è stata tutta una prima fase di analisi, assolutamente fondamentale per poi andare a definire tutto il resto del brand. La seconda fase è stata progettare i servizi e la piattaforma. Servizio di deposito. Questo vi dicevo al momento è il servizio attivo, ok? Quindi depositare e ritirare il bagaglio in uno dei punti di deposito Bagmedoo, dentro la stazione, quindi fisicamente dentro la stazione, nei depositi ufficiali, oppure in città. I prossimi servizi saranno i servizi di trasporto, quindi depositare il bagaglio in un punto Bagmedoo e scegliere in quale altro punto Bagmedoo ritirarlo, e poi il servizio a binario, quindi prenotare dalla piattaforma il servizio di facchinaggio, si chiama letteralmente, quindi la persona che porta il bagaglio al binario. Questa cosa non la fa nessuno e sfido chiunque a dirmi che è una cosa che non volete. Cioè, quanti di voi vorrebbero trovarsi la valigia al binario? Dai, non fate i timidi, alzate le mani, su. Perfetto, sappiate che Bagmedoo lo farà e non manca molto per questo. Il servizio in realtà già lo facciamo con i depositi bagagli in stazione, dobbiamo solo implementarlo nella piattaforma. Quindi cosa succede? Voi depositerete il bagaglio in stazione e potrete averlo al binario oppure averlo in un altro deposito Bagmedoo, magari di fianco all'albergo o all'albergo stesso, oppure depositarlo in un albergo, trovarlo al binario, eccetera. Come vedete nel disegnino, tutte le varie combinazioni possono portare poi alla vostra più totale comodità. Questa è un po' la roadmap che ci siamo dati per i servizi di deposito, trasporto e servizio al binario. Una prima fase di posizionamento che è quella attuale, 246 punti in Italia, con il servizio di trasporto intanto limitato a Roma e Milano come primo test. Una seconda fase di differenziazione, l'abbiamo chiamata, dove avremo oltre 500 punti Bagmedoo, che saranno sempre stazioni, depositi in città, ma anche, per esempio, edicone nelle stazioni. Entro fine novembre avremo anche altre 90 stazioni minori. E una terza fase, oltre 1000 punti Bagmedoo, è Europa, mondo. è un po' stile impero romano, l'ultima fase, però l'idea è quella di espanderci e diventare sempre più grandi. Abbiamo poi progettato la piattaforma, quindi ovviamente il tutto doveva essere responsive e visibile da qualsiasi dispositivo. Abbiamo lavorato alle pagine principali del sito, quindi la home page, la pagina di risultati, la pagina di dettaglio, il checkout, i metodi di pagamento, quali mail sarebbero dovute partire in funzione dei servizi prenotati, e poi le altre pagine, l'area utenti privata per chi prenota il servizio e l'area per chi invece offre il servizio. Siamo arrivati poi all'identità del brand. Abbiamo ovviamente dovuto lavorare a qualcosa di diverso, qualcosa che gli altri competitor non facessero. Quindi abbiamo definito innanzitutto a chi vogliamo rivolgerci, ai clienti finali, quindi alle persone che viaggiano e hanno bisogno del deposito bagagli, ai provider del servizio, quindi chi fa il servizio, ovvero i depositi ufficiali in stazione e le attività commerciali, e ai partner, che sono in questo caso keypoint grandi stazioni, ma che saranno anche altri come tour operator. Per ognuno di essi abbiamo lavorato alla value proposition e ai driver di scelta. Cosa vuol dire? Abbiamo definito che cosa cercano queste persone, perché dovrebbero scegliere Back Me Do, e che cosa li porta a sceglierci. Abbiamo poi definito i nostri valori, che sono libertà, semplicità e sicurezza, e poi definito il nostro tono di voce. Abbiamo scritto anche negli altri speech, il tono di voce è fondamentale, è come parliamo ai nostri clienti, e siccome i nostri valori sono libertà, semplicità e sicurezza, noi dobbiamo usare parole facili, comprensibili da capire, un tono amichevole, ma anche dare sicurezza. Perché ovviamente parliamo di bagagli, parliamo dei vostri bagagli, che lasciate in un deposito, quindi dovete sentirvi sicuri di lasciare il bagaglio, tornare e ritrovarlo intero, così come l'avete lasciato. Il posizionamento del brand è questo, quindi i tempi corrono e noi dobbiamo seguirli viaggiando leggeri. Vogliamo che le persone possono muoversi senza pesi e senza pensieri, dritta verso quello che le sta aspettando, che sia un meeting di lavoro o una visita guidata al museo. Per questo i loro bagagli pensiamo noi, quindi questo è il nostro statement, è il nostro posizionamento. Abbiamo poi lavorato a quella che è la comunicazione e il marketing, quindi a come presentare tutto questo viaggio che ci siamo fatti e abbiamo avuto l'idea, abbiamo pensato a come venderla, qual è il modello per mangiarci, insomma per avere delle revenue, abbiamo pensato a posizionamento, alla piattaforma, adesso dobbiamo comunicare tutto questo. Gli obiettivi della nostra comunicazione quali sono? L'obiettivo di brand, quindi a diventare diciamo leader di pensiero sui temi legati al mondo del viaggiatore, quindi fare in modo che quando le persone abbiano l'esigenza di lasciare il bagaglio pensino a Bagme Do, in sostanza, e come obiettivo di vendita generare utenti iscritti alla piattaforma e transazioni. Il nostro concept, ma che è anche il payoff, è Keep Moving Free, quindi di nuovo questo concetto della libertà, del senza pesi, del senza pensieri che ritorna. Target viaggiatori italiani e stranieri e abbiamo deciso di fare attività di marketing ovviamente sia offline che online. Come attività di marketing offline, migliorare la visibilità di Bagme Do nelle stazioni, perché al momento voi vedete deposito bagagli e non vedete ancora Bagme Do, ci stiamo lavorando. Partecipare ad eventi e fiere per far conoscere Bagme Do, che è quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo deciso di sostenere il freelance camp per farci conoscere da voi che siete persone che viaggiate per lavoro e quindi avere visibilità, farvi vedere come facciamo il servizio, quindi offrendovi il deposito per farvi vedere come lavoriamo. E da qui stiamo adesso stringendo altre partnership per partecipare ad altri eventi, quindi se state organizzando un evento e vi rendete conto che avete bisogno di un corner di deposito bagagli, c'è il mio biglietto alla visita, dopo ne parliamo. Creare una linea di prodotti a marchio Bagme Do, quindi magliette, t-shirt, zaini, penne, la qualunque cosa, fare merchandising, far conoscere Bagme Do ai clienti del deposito bagagli che giornalmente passano e non conoscono Bagme Do, intensificare il legame con i partner del settore, quindi i tour operator e altri servizi tipo noleggio biciclette, eccetera, e fare azioni di co-marketing con i partner che noi abbiamo, per esempio l'assicurazione bagagli, quindi noi facciamo pubblicità, facciamo comunicazione per loro e loro la fanno per noi. Questo è un po' il piano per la comunicazione offline. Arriviamo alla comunicazione online come obiettivo di tutti arrivare nella prima pagina dei risultati del motore di ricerca, quindi di Google, quindi per esempio se io cerco deposito Bagagli Milano io voglio che Bagme Do sia in prima pagina, ovviamente chi lavora un po' in questo settore sa che non è assolutamente facile, ma noi comunque ce lo poniamo come obiettivo. Usare i social per raggiungere più persone possibili, in questo caso Facebook, Instagram, a breve anche LinkedIn per intercettare il pubblico business, coinvolgere riviste, riviste del settore turistico, blogger e influencer nel settore viaggi, sempre per aumentare la visibilità di Bagme Do, migliorare l'attività di pubblicità online per attirare sempre più clienti interessati sulla piattaforma e quindi fare in modo che convertano, che pronotino i servizi, mettere online l'app a cui stiamo lavorando e migliorare costantemente la piattaforma e infine fidelizzare i clienti attraverso richieste di feedback, newsletter, comunque farci sentire anche perché noi sappiamo che le persone hanno bisogno di un deposito bagagli ed è un bisogno immediato, però dobbiamo cercare di mantenere il contatto, dare dei contenuti interessanti sempre legati al mondo del viaggio. Quindi venite a trovarci sui social, siamo appunto su Facebook, su Instagram e da pochissimo su LinkedIn e grazie. 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 Grazie.